Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Io quando sono arrivato a Parigi non sapevo dove dovevo andare ho guardato sotto la stazione di Rio di Parigi e ho guardato così e vedevo la gente che scendeva e quella che saliva Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info La progettazione fa parte di una progettazione ministeriale, si chiama SPRARA, del sistema di progettazione previne chiesi i loro progetti politici. Ho scelto di fare questo lavoro perché la storia di questa terra è stata da sempre una storia di accoglienza. Vengono quasi come due figlie di mondo, i veri sono tutti, sono visti, sono tutte le storie fantasie che stiamo a scuola. La storia di tutte le settimane sono buoni perché, come la stazione, noi siamo ragazzi a fare questo lavoro, quando la stazione si vogliono, si vediamo alla stazione, mi guardano, mi guardano, mi guardano, mi guardano, mi guardano, mi guardano! In mio paio non è possibile parlare anglosi, non è possibile andare a scuola, se si vengono a scuola, non lo vorremmo. io voglio montare io ho in lui venne a mora mio vado era un figlio nella mia natura con un figlio e per lo mio bambino e il mio bambino morto Non potremmo mai capire quello che ha provato un ragazzo o una ragazza attraversare il mare e ad abbandonare la propria famiglia. però è proprio questo che secondo me ci dovrebbe spingere ad essere più aperti. Sono tutti i colori, ma sono tutti i colori, ma sono tutti i colori. Sono tutti i colori, ma sono tutti i colori, ma sono tutti i colori, ma sono tutti i colori italiani. Sono tutti i colori tradizionali, tutti i colori. L'animale non ha il problema, non capisco. La lingua italiana, non il nord, non il francese. Capito? Io vorrei trovare la vita del meglio, perché quando sono stato in Egitto la mia vita non è bella. Che sarà? Che sarà della mia vita? Che lo sarà? Su far tutto o forza niente, da domani si vedrà. Che sarà? Sarà quel che sarà.